8 e 41 minuti, rientriamo in onda qui su Playset all'ascolto di RBE. Vi ho detto che quando saremmo rientrati in onda dopo le notizie di Popolare Network ci saremmo occupati di uno di quegli argomenti che insomma mi ritrovavo a raccontare ogni giorno nel raccontare le notizie di primo piano per un certo periodo e poi è un po' sparito dai nostri radar ovvero il PNRR ma oggi tra l'altro andiamo a ragionare un po' su un aspetto che credo non sia mai stato particolarmente sottolineato, devo essere sincero io l'ho scoperto leggendo l'inchiesta che vi stiamo per raccontare inchiesta che ci dà l'opportunità di ritornare a dialogare con IRPI, sapete che lo facciamo ogni tanto raggiungiamo le varie firme di IRPI, IRPI Media per farci raccontare le inchieste che hanno portato avanti l'inchiesta oggi porta il titolo di mille sprechi, racconta appunto una vicenda all'interno del PNRR se ne sono occupate Francesca Cicculli e la nostra ospite di oggi Carlotta Indiano intanto ciao e grazie di essere qui con noi Ciao a tutti e tutti, grazie dell'invito Allora si parla di mille sprechi, non avete scelto mille perché è un numero alto casuale e insomma suona come un alto numero di sprechi ma si tratta appunto di un, come dire, avete ripreso un nome che era una sorta di progetto che si chiamava mille esperti e che doveva essere, poi mi correggerai se sbaglio, ma sostanzialmente il primo passo del PNRR cioè sembrava essere un passo nella giustissima direzione sappiamo che quando ci sono fondi europei molto spesso le amministrazioni hanno difficoltà a procurarseli, gestirli e portare avanti i vari progetti quindi assumiamo degli esperti che facilitino tutto questo processo è un po' questo, no? Quello che si era pensato di fare o quantomeno si era dichiarato di voler fare ad un certo punto Sì, la storia comincia inizio dicembre 2021 quando sostanzialmente Renato Brunetta che è allora la ministra della pubblica amministrazione e lancia questo progetto, mille esperti che era stato pensato proprio per aiutare la pubblica amministrazione italiana nella mista a terra dei progetti a cui erano destinati i fondi del PNRR viene finanziato dalla missione 1 di generalizzazione, innovazione, turismo appunto del PNRR ed è stato il primo progetto finanziato con i soldi del recovery e quindi doveva rendere possibile tutti gli altri progetti quindi l'obiettivo era quello di assumere e di slocare nelle varie regioni i professionisti in grado di accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal PNRR proprio perché come ci hanno raccontato anche le fonti che abbiamo inserito all'interno del pezzo gli antilocali non erano pronti a gestire questi fondi per mancanza di personale, per mancanza di strutture e dunque servivano dei professionisti, degli esperti che potessero facilitare questa messa a terra dei progetti cosa che poi appunto come ci hanno raccontato le fonti all'interno del pezzo non è successo infatti nel trattare questo argomento noi ci occupiamo di PNRR su diversi fronti lo facciamo con un'altra testata internazionale attraverso un progetto Gross Border insieme a Followed Money con cui monitoriamo i vari PNRR e come vengono implementati all'interno dei vari stati membri dell'Europa in Italia invece col progetto Le Mani sulla Ripartenza insieme a The Good Lobby monitoriamo la trasparenza del PNRR e dunque in questo caso siamo stati contattati da una fonte che ci ha raccontato la propria esperienza personale all'interno del progetto degli scontri duri che ha avuto anche col proprio coordinatore e abbiamo cominciato ad allargare l'indagine ad altri esperti e ad altre regioni che sono state soggette di audit da parte della Commissione Europea e quindi non ci siamo concentrate solo sull'Emilia Romagna che è appunto da dove vengono le esperte che ci hanno contattato ma anche su Abruzzo e Sicilia che sono appunto state soggette ad audit da parte della Commissione abbiamo sentito altri esperti riscontrando come le questioni sollevate da parte delle esperte nell'Emilia Romagna si ripetevano anche se in maniera diversa nelle altre regioni e quindi gli scontri con i coordinatori, le difficoltà dell'implementazione del progetto il fatto che questo progetto dovesse facilitare la messa a terra degli altri progetti del PNRR cosa che poi non è stata fatta perché gli esperti si sono ritrovati sostanzialmente a smaltire gli arretrati e ad attuare le semplificazioni del PNRR quindi non svolgendo appieno il compito che era stato deciso per loro all'inizio per tutta una questione di difficoltà degli enti locali di poter attingere alle loro competenze di difficoltà da parte delle regioni di gestirli l'abbiamo riscontrato appunto su tutto il territorio nazionale allargando questa indagine chiaro, chiaro e appunto fa, insomma, interessante il modo in cui raccontate anche tutta questa vicenda nel senso che avevo partito da una vicenda singola una di queste persone che vi ha contattato e c'è proprio tutta la parabola ovvero l'essere stata, insomma, l'aver partecipato a questa gara essere stata scelta tra gli esperti essere piuttosto soddisfatta e ottimista rispetto al lavoro che le si poneva davanti e poi, insomma, può impattare con la realtà perché poi appunto il suo lavoro non è stato svolto insomma, non è stato dato modo di lavorare come doveva in questo apro una parentesi che non è stato il focus della vostra inchiesta ma che sottolineerei, cioè raccontate anche il sessismo nei suoi confronti si trattava di una giovane donna e insomma, appunto, non è questo il focus del vostro lavoro di inchiesta ma lo sottolineerei perché anche in questo caso, purtroppo, c'è stato anche questo elemento però appunto vi sto fermati invece più che altro su, insomma, oltre a questo elemento il fatto che il suo lavoro sia stato poi in realtà sostanzialmente impedito a vari livelli perché soprattutto, insomma, sembra che a un certo punto i comuni stessero facendo molto affidamento a queste figure ma che invece questo contatto venisse sempre un po' tagliato, impedito questo è un po' quello che è emerso, no? Sì, la storia della fonte che abbiamo raccontato all'inizio del pezzo poi diventa un po' la parte per il tutto appunto che è uno dei passaggi all'interno dell'articolo perché la sua esperienza si ripete e sostanzialmente quello che succede anche nelle altre regioni è che gli esperti che più volevano cambiare le cose aiutare gli antilocali quindi cercare di semplificare le procedure perché le procedure purtroppo a livello di antilocali sono completamente diverse i dati sono difficili da reperire e dunque chi più voleva aiutare diciamo appunto i comuni, gli antilocali si è trovato con enorme difficoltà questo è dovuto a probabilmente una questione strutturale e legata ai finanziamenti del progetto perché come tanti altri progetti del PNRR gli antirogatori dei fondi, in questo caso le regioni dovevano anticipare i soldi necessari nella realizzazione della misura e quindi il rimborso che sarebbe stato poi erogato arrivava al raggiungimento del milestone che sblocca appunto le rate del recovery verso l'Italia quindi se non vengono raggiunti gli obiettivi prefissati che in questo caso appunto sono milestone e target come tutti i progetti del PNRR non vengono in teoria ottenuti rimborsi su questo la commissione europea inizialmente era un po' ambigua ma in teoria appunto se non vengono raggiunti gli obiettivi non vengono erogate le rate per questo, per il motivo, per il timore di non raggiungere i target e quindi di perdere i fondi le regioni hanno allontanato proprio gli esperti che volendo fare le cose per bene ci avrebbero probabilmente messo più tempo e quindi avrebbero allontanato la possibilità di recuperare i fondi e quindi di conseguire formalmente gli obiettivi che loro stavano lentamente raggiungendo perché un altro problema emerso sono i tempi sia nell'assunzione di questi esperti che è avvenuto in maniera molto rapida in pochi mesi e sia poi nelle semplificazioni delle procedure tanto che nel corso del tempo le varie regioni hanno sostanzialmente abbassato i target cioè ridotto i target perché era difficile raggiungere quei target così ambiziosi che erano stati inseriti inizialmente nei vari piani territoriali delle varie regioni chiaro, chiaro e nel raccontarci questo crei un po' il collegamento fra quei titoli che effettivamente leggevamo abbiamo letto nel corso degli anni cioè questa rincorsa alle varie rate i vari ritardi a livello nazionale e poi insomma nel sottobosco di tutto questo si muovevano quelle vicende che raccontate in questa inchiesta che chiaramente va molto più nel dettaglio rispetto a quello che ci stiamo raccontando noi fino ad adesso chiuderei con uno sguardo sulla situazione attuale questo è un percorso che è partito dal 2021 semplicemente le cose stanno andando come avete raccontato in questa inchiesta o si è arrivata ad una fine o a una conclusione insomma come siamo messi? Dunque il progetto Mille Esperti nello specifico sta andando in maniera diciamo da quello che è emerso molto lenta nel senso che appunto i pianeti aerodinari che hanno elaborato le varie regioni per quanto riguarda Abruzzo, Sicilia ed Emilia che abbiamo potuto riscontrare sono stati rimodulati e quindi sono stati ridotti i target c'è stato un ricambio continuo all'interno degli esperti il rischio è che proprio quel progetto che avrebbe dovuto aiutare tutti gli altri progetti ad essere attuati diventi poi la spada di Damocle dell'intero PNRR e noi tra l'altro dopo la pubblicazione del pezzo siamo state contattate da altri esperti da altre regioni che ci hanno confermato la situazione anche in altre regioni per cui vuol dire che non solo le regioni soggette ad audiz da parte della Commissione hanno riscontrato problemi ma è un problema che si è ripetuto a livello nazionale chiaro e quindi magari scusa avevo detto che era l'ultima domanda ma me ne hai ispirato un'altra c'è l'intenzione di proseguire magari col lavoro di indagine sì l'idea in realtà è proprio questa è capire come si concluderà il progetto perché in teoria alla fine di quest'anno dovrebbe appunto terminare ma si parla di diciamo rimandare con l'assunzione di altri esperti o magari tenendo quelli attuali perché appunto la difficoltà è proprio nel riuscire a raggiungere i target nei tempi stabiliti e quindi all'interno dei tempi del PNRR e quindi entro la fine del 2026 l'idea è quella di continuare a monitorare non solamente su questo progetto in realtà ma anche con tutti gli altri progetti che abbiamo in campo sul PNRR l'andamento dell'intero recovery in Italia perché appunto il grande problema è che c'è una difficoltà nell'intercettazione dei fondi e poi nell'implementazione di questi progetti chiaro, quindi insomma magari ci faremo sentire di nuovo qui da RBI nel caso ci fossero nuove puntate di questo lavoro di indagine io senz'altro invito i nostri ascoltatori a dare un'occhiata ad IRPI in generale ma in particolare tu hai citato prima la frase che le mani sulla ripartenza che è un po' il nome sotto il quale stanno molti dei vostri lavori di indagine relativi al PNRR anche di taglio molto diverso rispetto a quello che ci hai raccontato quindi volendo esplorare questo tema si può ad esempio cercare questo hashtag sostanzialmente e andare un po' più nel dettaglio per oggi invece direi che abbiamo esplorato a sufficienza questo argomento quindi grazie mille davvero Carlotta Indiano per questo lavoro di inchiesta e poi per avercelo raccontato grazie mille e buona giornata grazie a voi